Normalmente l'ordinativo arriva alla nostra azienda a mezzo email, assieme a tutta la documentazione necessaria, disegni e distinte base. Dopo una necessaria verifica e analisi tecnica da parte del personale qualificato per questa attività, tutto il materiale viene inserito nel centro elaborazione dati per l'emissione di ordini di acquisto, creazione di scadenziari per seguire la produzione e per l'emissione del ciclo di lavoro produttivo che è necessario per la lavorazione in officina.